Barbara, che stai aspettando? Che arriva il mio vetto qui per darmi questo e questo Lui e Sofì, I miei contro te? Sì, guarda C'è anche la sorellina, mamma Uè, non si può far vedere il nuovo film dei miei contro te Fai ma la copertina la fanno tutti Non si può sponerare il film Se lo volete vedere, venite al cinema Ciao E ma penso che la sono state la copertina Certo Lui, Lui, Lui Adesso Sofì Sofì, 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 Sofì Adesso per farvi arrivare tre volte, mei contro te Mei contro te Mei contro te Mei contro te E non so dove andare, ma ci vado con te Ma ci vado con te Ti c'è sta nuova avventura Mentre paura Con forza e coraggio Afferriamo due viane Missione giungla Missione giungla Bravissimi Ok, allora, rimanete tutti ai vostri posti A salve su Missione giungla Grazie mille, grazie per essere venuti Grazie di cuore Vi vogliamo un mante di bene Grazie mille Buona visione Divertitevi Buon fiore Ciao Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille